ciao a tutti bentornati sul mio canale facciamo una piccola parentesi parliamo di altro non solo di calciomercato anche se ho qui la mia agendina che ormai avete imparato a conoscere ho scritto le mie pagelle su questa agendina volevo dirvi lo stanno facendo in tanti quindi non potevo non farlo anche io volevo dare i miei voti ai giocatori della juve in relazione a questa stagione ovviamente per quello che abbiamo visto in questi primi mesi giusto per arrivare alle classiche considerazioni di fine anno ok quindi diamo i voti diamo i voti e poi mi direte voi cosa ne pensate dei miei giudizi allora tech voi check cesni un bel otto un bel otto perché è un portiere che io reputo molto affidabile da enorme sicurezza non ha fatto errori clamorosi questa stagione per il momento mi sembra veramente una persona un uomo un professionista su cui possiamo contare e quindi si prende un ottimo voto buffon per le volte che l'abbiamo visto in campo ha fatto un ottimo lavoro gli do un 7 giusto un voto in meno a cesni per non esagerare però veramente buffon mi ha sorpreso positivamente almeno in due partite poi col barcellona non ne parliamo è stato veramente fondamentale si vede che quando in campo si sente solo lui parla detta la detta le linee di difesa da indicazioni a determinati giocatori su cosa devono fare soprattutto continua a spronare la squadra e quindi un bel 7 pinsoglio voglio dargli un 7 sulla simpatia per la simpatia per la fiducia perché è un grande veramente la nostra mascotte una volta avevamo paduin e adesso abbiamo pinsoglio passiamo ai difensori matais delict 8 credo ci sia poco da dire sta dimostrando ancora una volta di essere un fenomeno un giovanissimo campione da una personalità incredibile gigantesca veramente un capitano in campo anche se non ha la fascia ma lo è è veramente un colosso da tutti i punti di vista fisicamente ma anche mentalmente e cioè io sono veramente perdo le parole quando mi devo parlare di delict perché sono veramente contento del suo acquisto stavo dicendo sono veramente contento perché penso che dopo cristiano ronaldo sia l'acquisto migliore della juve degli ultimi anni demiral l'abbiamo visto poco tanto per cambiare io gli do un 6 sulla fiducia perché le volte che l'ho visto non ha fatto malissimo però abbiamo bisogno di recuperarlo totalmente questo ragazzo perché ha sicuramente delle doti però se continua a subire degli infortuni così non andiamo molto bene bonucci bonucci argomento di grandissime polemiche ultimamente tirate un po le somme della stagione fin qui disputata io gli do 5 io da bonucci mi aspetto molto di più in quanto anche capitano io mi aspetto più personalità più sicurezza più testa concentrata in campo e poi non mi è piaciuto tante volte quando giocando centrale di difesa teneva la difesa troppo bassa quando ha giocato delict si è vista enormemente la differenza delict da centrale di difesa teneva la difesa alta perché delict ha l'atletismo la potenza per fare l'uno contro uno contro l'attaccante di turno avversario e poi recuperargli dei metri invece bonucci è sempre in difficoltà lui sta basso perché se sta troppo alto perde un sacco di metri perché non ha la corsa non ha la velocità e quindi diventa un grosso problema se vogliamo tenere bonucci titolare per favore mister pirlo spostiamolo sulla destra o sulla sinistra ma non centrale come centrale lasciamo delict il buon giorgio chiellini amico mio ti abbiamo voluto tanto bene ma ti becchi un tre una stagione ancora una volta al j medical ancora una volta perché anche l'anno scorso è stato così io credo e continuo ad invitarti con tutta la stima e l'affetto del mondo di lasciare il calcio giocato alla fine di questa stagione basta finito hai fatto il tuo hai fatto tutto quello che potevi fare ti sei tolto tante soddisfazioni per favore giorgione lascia il calcio a giugno alexandro 4 è il giocatore che più non sopporto della juventus ed è da tre anni che lo dico non mi piace non mi piace non mi piace è chiaro questo discorso alexandro è lento molle svagato non c'ha più voglia di giocare a pallone sembra giocare in ciabatte sembra che lo droghino pesantemente prima di entrare in campo non salta l'uomo non va più sul fondo non fa un cross decente e quindi 4 danilo danilo 8 io gli ho dato lo stesso voto di delict perché perché delicto è il nostro colosso difensivo però danilo ragazzi è stato il migliore della juve fino adesso nel complesso ed è una cosa straordinaria perché comunque io per primo ma so anche molti di voi l'anno scorso invece era uno dei peggiori della juve eravamo tutti lì a morderci le mani perché abbiamo dato via canselo abbiamo fatto una stupidaggine invece messo in questa difesa a tre sostanzialmente di andrea pirlo danilo da centrale di difesa spostato sta veramente giocando da dio e poi fa queste accelerazioni che di là alexandro non è in grado di fare l'abbiamo già detto e tanto meno volucci e quindi un grande danilo veramente veramente mi sta piacendo tanto frabotta il buono frabotta 5 non posso dargli la sufficezza quelle poche volte che abbiamo visto in campo non ha fatto cose utili all'umanità e tra l'altro ne abbiamo già parlato sul calciomercato penso che non abbia un futuro lunghissimo alla juventus juan quadrado e qui farò storcere il naso a molti di voi perché lo so è stato l'argomento di discussione principale dopo le mie analisi e pagelle juan quadrado io ragazzi io gli do 5 io gli do 5 perché mi aspetto molto di più da lui non mi basta che mi faccia un cross a partita non mi basta che salti l'uomo una volta a partita lui deve fare sempre di più e sempre meglio ha perso troppi palloni troppo spesso è stato tra i peggiori in campo e ci ha dato poca sicurezza su quella fascia lì non è solo colpa sua ho già dato ne ho già parlato ampiamente ma per chi non l'avesse mai sentito nelle mie analisi e pagelle io non lo reputo più in grado di fare tutta la fascia tutte le partite senza mai essere sostituito perché non c'ha più la gamba nel fiato lui potrebbe dare il massimo concentrandosi su 30 metri di campo non su 90 metri di campo e quindi credo che sia un problema anche un equivoco tattico che non dipenda da lui però anche di suo lui sbaglia troppo spesso a volte dei passaggini elementari quindi mi aspetto di più è un 5 ma di incoraggiamento passiamo al centrocampisti federico chiesa 7 ha fatto vedere le sue buone qualità lo abbiamo visto in crescita anche nell'ultima partita clamorosamente persa in casa con la fiorentina è stato tra i migliori tra i pochi salvabili della juve chiesa sta facendo bene si è integrato bene è un giocatore che secondo me potrà potrà veramente diventare molto forte spero non si involva in voti involva spero non si involva come bernardeschi artur 7 mi sta piacendo anche lui non l'abbiamo avuto per qualche partita per infortuni vari eccetera anche per scelte di mister pirlo che poi ne parleremo alla fine in coda al video però si vede che è solido già soprannominato vinavil perché il pallone non glielo togli dai piedi non si stacca dai suoi piedi quello ti dà tanta sicurezza devo ancora capire se gioca meglio sullo stretto riesce a verticalizzare sembra la prima che ho detto però secondo me è un giocatore affidabile di grande classe e quindi lo lo scopriremo e ce lo godremo ancora nei prossimi mesi bentancur 5 a volte mi è piaciuto enormemente però troppe poche volte c'è tipo tre partite tutte le altre male tutte le altre molto male e questo è il grande problema di bentancur non si capisce bene se gioca meglio da mezzala o da centrale o da mediano non lo so non l'ha capito ancora nessuno forse neanche i suoi allenatori sta di fatto che lui è troppo altalenante ti fa la partita dove ti regge il centrocampo da solo e poi per tre partite perde tutti i palloni di centrocampo e fa falli inutili deve crescere mckenny 8 8 perché anche lui come delicte come danilo è decisamente tra i migliori della stagione 8 un voto in più ad artur a cui ho dato 7 mckenny gli do 8 perché comunque è la sorpresa dell'anno ha stupito tutti soprattutto perché era sconosciuto e più e si è dimostrato veramente un grande giovane so di per certo e ve ne ho già parlato che la juventus nell'estate 2021 lo riscatterà definitivamente dallo schalke 04 ram 66 si meritava di più però è troppo di cristallo troppo fragile non non è continuo non possiamo fare affidamento su di lui ma quello quando c'è stato si è vista la differenza la sua classe la sua intelligenza tattica gli dò un 6 sperando di vederlo spesso in campo kulusevski 4 è stato ad oggi il peggior acquisto della juve da un punto di vista di prestazioni sulla carta non lo è però deve assolutamente entrare in forma deve crescere deve capire non solo lui probabilmente anche lo staff tecnico qual è il suo giusto ruolo ma per ora è 4 molto deludente bernardeschi 4 è in coda la scorsa stagione pessima da tutti i punti di vista e gli auguro il miglior futuro possibile via dalla juventus già gennaio che dirà il voto è ciao 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 rabiot 5 sei tornato rabiot le pipio come ti chiama il mio amico max avevi finito in grandissimo spolvero la scorsa stagione con sarri tra tra i migliori quest'anno sei ritornato il peggior rabiot della dell'inizio dello scorso campionato quindi speriamo che ancora una volta poi con l'avvicinarsi della primavera tornerà il grandissimo rabiot galoppatore che ti abbiamo visto nella scorsa primavera portanova boh l'abbiamo visto mezza volta quindi non mi posso esprimere concludiamo con l'attacco attacco formato ve lo ricordo da sole tre unità che è un bel problema vediamo se a gennaio arriva il famoso quarto attaccante ronaldo attenzione non stupitevi di questi voti ronaldo 7 7 ragazzi c'è inutile cosa gli do 9 tutte le no 7 perché è fenomenale è fondamentale sta segnando tantissimo ancora ma ha fatto troppe partite da quasi peggiore in campo e quindi gli do 7 non so perché ma 3 4 partite male malissimo allora 7 morata idem 7 aveva iniziato da 10 insegnava sempre anche pure in fuorigioco vi ricordate quel momento tutti i gol annullati però ragazzi morata si sta involvendo le ultime partite anche lui come ronaldo molto male calato drasticamente anche come concentrazione quindi gli do 7 che comunque è un ottimo voto ma non è fantasmagorico di bala 4 la situazione la conoscete tutti quelle volte che l'abbiamo visto un po per sfortuna un po per sua mancanza di forma ha giocato in modo pessimo ha segnato solo un gol 4 4 io spero che la situazione del contratto si risolva presto e che la situazione e che possiamo contare sul solito di bala il grandissimo giocatore che che tutti conosciamo e che deve assolutamente mettere in campo quello che sa fare insomma che la situazione si risolva pirlo e poi finiamo pirlo gli do 5 perché non mi è piaciuto il fatto che nelle prime 4 5 giornate ha sperimentato troppo da in tantissimi ruoli troppe sperimentazioni che ci hanno fatto perdere chiaramente dei punti e non ha mai smesso di cambiare i giocatori a centrocampo non dando mai dei punti di riferimento ha sempre cambiato almeno i due centrali di centrocampo per non parlare del terzo a volte il trequartista a volte no a volte la la destra cioè troppe formazioni diverse molti di voi me lo scrivono costantemente dan tu hai capito qual è la formazione titolare della juve no non lo so ed è non va bene non va bene perché è vero che si gioca ogni tre giorni e quindi è giusto fare delle rotazioni ma forse pirlo ne ha fatte fin troppe di rotazioni ragazzi io vi ringrazio di avermi ascoltato siamo a fine anno è presto per farci gli auguri ho già preparato un video per domani sera non perdetevelo alle poco prima della mezzanotte andate sul mio canale e guardatevi il video fatevi due risate perché sarò più scemo del solito l'idea è quella di trasmettere un po di allegria un po di serenità di non prenderci sempre troppo sul serio soprattutto perché si parla di calcio ma soprattutto perché qua fuori è un brutto mondo ci sono tante cose negative e quindi è giusto ogni tanto anche su una piattaforma di intrattenimento quale youtube buttarla un po sul ridere divertirci scherzare e smetterla di insultarci di mandarci a quel paese di usare parolacce quando si parla di calcio mi fate questa promessa buoni propositi per il 2000 sì 2021 stavo dicendo 2018 non so perché ma non lo so il mio cervello sta già andando in palla ragazzi vi abbraccio forti non perdetevi le prossime novità perché ho in servo dei video per voi fenomenali con degli ospiti importantissimi ci sto lavorando ci sto lavorando vi abbraccio grazie mille e sempre sempre forza juve